Se domani non vado a fare... una cacca 12.000 like per questo video, mega prank questa volta, Graziana Ciao ciao Hola trollini, qua è Pepios Benvenuti in questo nuovo video Questo non so come definirlo, se è un prank, un esperimento sociale Ma oggi siamo qui nella casa del Pepios fratello Del grande fratello praticamente Perché farò venire Graziana a casa Dopo un po' con una scusa dirò che me ne devo andare Spiremo che cosa fa Graziana a casa mia Perché voglio capire che cosa fa, cioè mi fido ovviamente Però giusto per, vediamo che cosa conviene Non c'è niente da fare ragazzi, bisogna passare del tempo nella vita, no? Comunque, mi raccomando ragazzi, se voi vedete questo video e non siete iscritti al canale Cioè, venite a far parte della YosFamily Che, cioè, ragazzi, la YosFamily, come state scherzando? La YosFamily non si batte Mi raccomando, passate a seguirmi su Instagram Che appena arriviamo a 100.000 iscritti su Instagram Apriamo il profilo a Graziana, ve lo ricordo in ogni video così sbocciamo E niente, praticamente andrò a posizionare una videocamera qua, in questa stanza Ora vediamo dove E l'altra in cucina E perché poi non ne ho più, quindi... Ci dobbiamo accontentare di due video canale Ovviamente lasciamo stare il bagno perché non mi pare il caso E penso che la cucina e la stanza mia siano le più gettonate Quindi ora le vado a posizionare Facciamo venire Graziana, la chiamo Vediamo come si comporta Ragazzi, per questo video saluto Maria Branda e Dino19 Se anche voi volete essere salutati, entrate a far parte della YosFamily Scrivetevi al canale nativa della Gampanellina 2000 anni più tardi Grazie Ma perché sei così lente? Due ore ogni volta Sono senza voce Di come? Io non ce l'ho mai più Io non ce l'ho mai più Che voce hai? Guarda Ma sei scena? Sì, devo sforzarmi a non parlare 2000 coccole Later Brava un attimo, devo andare a pagare una corona pizza Te la devo andare a prendere Ma proprio il problema No E dai Tu stai a dieta E dai, non ho mangiato No, vedi, non lo so Non credo Dai, prendilo anche a me, ti prego Non lo so Torno presto 15 milioni, lo stiamo che fa la pizza Ho fame E tu, comprami la pizza Per la pregazione non toccare il computer Che tu non lo sai usare Non tocco il computer Grazie a non toccare il computer Lo fai esplodere, se non è così importante Non lo so usare, non te lo tocco Non te lo tocco Mi dovi dare? Sì Ti dovi fidare Dai, guardi Ciao 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 Ci sono tre giorni Che io non riesco ad andare in bagno Non ce la faccio più Cioè sto proprio confissima Uff Veramente Io qua Cioè Se domani non vado a fare La cacca Vado proprio dal dottore Penso proprio Sicuramente Da Peppa per favore Mi prendi la pizza Io non ho mangiato Ho fame Sono autorizzata A mangiare qualcosa che c'è qua Non mi interessa Uomo avvisato Grazie alla mangia A few moments later Qua tutti puntano il dito U Bah Mo' Azzurra Lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Allora Ragazzi Non toccare il computer Pietro non lo sai usare Non tocco il computer Ragazzi Non toccare il computer Lo puoi esplodere Sì Non lo so usare Non te lo tocco Non te lo tocco Ale Il sito tu Da dove hai preso I leggings Quelli con i quadrettini Qual era? Però devi dirmi La taglia Perché Io mi ricordo Che la faceva Troppo giusta Cioè In base alle decisioni Giusta Aspetta Quindi tu dimmi la taglia che hai preso Che poi la pizza Sopera tagli meno O la stessa taglia Che più o meno la staglia La carta La carta Che Falle Alla ripresi Hanno detto Consegna Tipo Sette giorni Lavorativi Per cui Non voglio La cazzo Affiliare Roux Roz B КА аюсь Plan jak Dio mio Il portello Sicuro si infazza Sicuro Andiamo Per me ci stai mettendo assai Perché mi stai prendendo la pizza Giusto Io ho fame Soprova a provare sa non sa bene a volte mi gira la testa te sta colesco con la mia tipa su la testa che peso del erotico della pesca o c'è la giornata a svegli e è colpa di svegliere pasta amo si mi hai portato la pizza niente pizza perchè guarda mi son bagnata per sbaglio l'acqua è ghiacciata ce l'avevo ho fatto per sapermi sul letto e mi è caduta l'acqua però non t'ho sporcato dal letto in due minuti che non ci sei tutto il portale un giorno ti sei cambiata eh vabbè vabbè ciccino mio ti so bene la mia felpa è una ciostra che fa hai fatto la brava si che hai fatto scusata guarda la questa vita che è sono stonata perchè non c'ho voce ti sei messo al computer? no figura? si figura? hai fatto robe strane? no però ho aperto il cazzo il tuo corpo l'hafer ah beh guardi tutto ciò che hai fatto oggi abbassa un po' qui perchè sei che c'è i pantaloni però tutto ciò che hai fatto oggi è stato video ripreso dalla videocamera che sta lì spesa proprio che stava là la guarda è accesa come ce n'è un'altra in cucina quindi tra un po' vedremo che cosa è combinato in camera e in casa mi devo preoccupare? oppure ti prendo la telecamera sto felina dai 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 cioè hai usato la mia carta per comprare degli schifosi leggings la mia carta? hai buttato tutto il mio cibo per te eh tutto cioè non sei in grado neanche di mangiare e di bere sono caduti sono scivolati e l'acqua? eh ho rimbalzato sul letto ho rimbalzato sul letto sei stato via per tantissimo tempo io cosa dovevo fare? non mi ci pieghe non mi piace ah ah abbiamo intenzione di dirmelo dei stati della delle cose che poi arrivano a casa mia cioè arrivano a casa mia i leggings lo so eh te l'avrei detto e fa e beh ci credo li vediamo a casa eh 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 allora dato che c'è stato questo video e quindi uscirà questo qui per sabato 12.000 like questa volta perchè so che ne siete in grado e mi compra veramente una pizza no e stavolta arriva un mega prank da parte del vostro pepios visto che questo non era un prank questo era un esperimento sociale e il prank è arrivato tu a me si arriva a 100k su instagram che è il profilo a me ma vero beh raga devo montare questo video e vedere un po' come viene vi voglio bene ciao ciao